Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore podcast. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felice di tornare nuovamente con voi. Prima di iniziare il presente podcast vi voglio comunicare che dalla prossima settimana, quindi questo lunedì prossimo venturo, oggi è 30 marzo 2024, quindi dal primo aprile 2024 sarò assente su tutta la piattaforma di YouTube. E almeno per la prima metà della prossima settimana sarò assente anche su Telegram e ovviamente sarò sempre assente per quanto riguarda il discorso mail, anzi già qualche settimana che proprio non ci metto mano. Ok, causa forza maggiore. Il motivo lo trovate sul canale di Telegram, quindi se siete interessati nel conoscere il motivo potete andare su Telegram, se non siete iscritti dovete iscrivervi e lì c'è scritto il motivo. Bene, se qualcuno mi manderà una mail per chiedermi il motivo non gli risponderò. Ok, mi sembra giusto. Se sei interessato vai su Telegram, molto semplice. Detto ciò ancora non è lunedì, quindi oggi è sabato, ok, e quindi qualcosina facciamo. Allora vogliamo parlare di un ulteriore argomento, cioè ulteriormente di quanto già detto negli anni. Non esiste un solo comandamento per quanto riguarda la mia conoscenza, poi se non è così qualcuno mi illumini, sarò felice di approfondire questa tematica. Ma per quello che riguarda la mia conoscenza non mi risulta che nel Nuovo Testamento esista un solo comandamento nativo. Ok, non esiste. Tutti i comandamenti della parola di Dio si trovano solamente, unicamente e tassativamente nella Torah. Sono lì. Cominciando dalla salvezza per grazia mediante la fede. Cominciando da porgere l'altra guancia. Tutti questi si trovano, ok, nella Torah, ok, e poi vengono ripetuti oltre la Torah. Vengono richiamati oltre la Torah e così via discorrendo. Bene, a un certo punto l'Apostolo Paolo fa delle affermazioni, no? Per esempio, ne fa molte, prendo un esempio, la testimonianza di qualcuno sia questa accettata per la bocca di due o tre testimoni. Da dove viene questo? Dalla Torah. Molto semplice. Quindi, nessuno si è inventato nulla, ok? Ma tutti quanti hanno attinto ai comandamenti della Torah. Si è benedetta la Torah. Si è benedetta tutta la parola di Dio. Attenzione, eh. Attenzione. La parola di Dio è vero che inizia dalla Genesi, ma finisce nell'Apocalisse, eh. Ok. Quindi stiamo dicendo che il resto non conta. No, no. Sto dicendo un'altra cosa. I comandamenti si trovano nella Torah, ma altrove ci sono delle cose che sono estremamente necessarie. Cominciando proprio dal discorso escatologico, no? Perché la grande escatologia invece c'è anche nella Torah. Non è che lì manca. Però la grande escatologia la troviamo altrove. Vedi, ad esempio, i due grandi libri escatologici, no? Daniele e Apocalisse. Ma non solo. Anche tutti quanti gli altri profeti e così via discorrendo. Bene. A un certo punto Paolo se ne esce con alcune affermazioni che per la persona poco avvezza, avvezza alla parola di Dio, può pensare che si tratterebbe di situazioni nuove, di comandamenti nuove. Non so se avete mai letto, parlo per quelli che sono nuovi, Romani capitolo 13, no? A un certo punto Paolo dice dovete essere sottomessi alle autorità. Oh. Ebbene, ma da dove prende questa affermazione l'Apostolo Paolo? Da dove la prende? Ebbene, ma la prende dalla parola di Dio, semplicemente. Rispettare il canuto, ad esempio, nella Torah troviamo questa grande affermazione, questo grande comandamento. Il canuto non è solamente quello che c'è, i capelli bianchi, ma è anche il giudice, perché per essere giudice dovevi essere canuto. E così via discorrendo. Faccio una premessa, io sto facendo un podcast, voi non mi vedete, ma vi do la mia parola, che è tutto improvvisato, non ho nulla di preparato, zero. Quindi davanti a me ho la paginetta, ok, aperta, che poi vi metterò in impressione, di Ecclesiaste capitolo 8, a proposito delle cose che stiamo annunciando. Bene. E Ecclesiaste capitolo 8, dal verso 1, io leggo da una vecchia di Udati, dice quanto segue. Verso 1. Un linguaggio un po' arcaico, un linguaggio molto bello, un linguaggio un po' complicato per il novizio. Ora, tralasciamo tutti quanti gli altri insegnamenti che il grande Savio, il grande Sapiente, chi è la Sapienza nella parola di Dio? La Sapienza è una persona, ha un nome ben preciso, no? La Sapienza grida, la Sapienza ha una sua personalità, la Sapienza è il Messia, il Mashia. Lui è la Sapienza, ma tralasciando tutto questo, adesso vogliamo viaggiare, come dire, terra a terra. Quindi qui sta facendo riferimento agli uomini. Quindi chi è come il Savio? Chi è come il Savio? Chi conosce la dichiarazione delle cose? Quindi è molto consuetudine nella scrittura e quindi nel giudaismo fare domande e rispondere a domande con altre domande. Vi ricordate? Il Messia Gesù Cristo, Gesù Cristo è pleonastico, il Messia Gesù, lui spesso ha risposto a delle domande formulando altre domande. Questo è molto ebraico, è molto biblico. Quindi chi è come il Savio? E chi conosce la dichiarazione delle cose? Te l'ha appena detto, il Savio. Praticamente qui ti sta dicendo, il Savio è quello che conosce la dichiarazione delle cose. E quello che conosce le cose è quello che le dichiara. Poi aggiunge, la sapienza dell'uomo gli rischiara il volto. Tradotto, questa sapienza che viene dal Savio, essendo tale, ti dichiara le cose e questa dichiarazione ti rischiara il volto. E quindi poi conclude e dice, e la durezza della sua faccia ne è mutata e quindi ti rischiara anche il viso. Se hai il viso duro, se hai il viso abbattuto, se hai il viso con un problema, se hai il viso che ti manca della mancanza di conoscenza e quindi sei teso, hai il viso duro, il viso la faccia. Panim, panai, viene mutato, si dice in ebraico. Nel verso 2 prosegue, dice, io ti ammonisco che tu osservi il comandamento del re. Quindi, come vedi, il re viene collegato, ok, a tutto quello che stiamo annunciando. Ora noi sappiamo che nel mondo ci sono i re, ma il re dei re è oltre questo mondo. Bene, io ti ammonisco che tu osservi il comandamento del re. Anche per cagion del giuramento fatto nel nome di Dio, tradotto, il re non lo devi ascoltare solo perché è tale, che già sarebbe sufficiente, ma ancora di più lo dovrai ascoltare perché c'è un giuramento fatto nel nome di Dio, cioè i re sono stati posti da Dio. Questo lo troviamo scritto un po' dappertutto, anche in Daniele capitolo 2, dove dice Dio mettere, Dio toglie il re. E quindi non c'è autorità che non sia posta dal Signore, quindi l'oggetto è l'autorità, viene posta dal Signore. Poi altri oggetti sono il comportamento delle autorità, perché quando un'autorità si comporta male, Dio lo permette, questi sono altri oggetti. Ok? Benissimo. E adesso l'anno appunto da quello che noi stiamo argomentando. Quindi, quello che leggiamo nel Nuovo Testamento non è nuovo. Ok? Quello che è nuovo, il patto nuovo, è che dal momento in cui il Signore Gesù muore e risuscita, inizia a intercedere. E quindi la salvezza per grazia, mediante la fede, viene ufficializzata. Ok? Mentre prima ancora doveva essere ufficializzata, anche se è sempre stata retroattiva, e quindi c'era il sacrificio di animali e così via discorrendo. Benissimo. Quindi, la scrittura ci sta dicendo che c'è un re, che c'è un re e che questo re è un'autorità e che questa autorità non nasce dal nulla, ma vengono poste dal Signore. Poi, nel verso 3 aggiunge, non affrettarti a partirti dal suo cospetto, ed anche non presentarti a lui con qualche cosa malvagia, perciò che egli farà tutto quello che gli piacerà. Perciò che la parola del re è con imperio, e che gli si dirà che fai. Chi osserva il comandamento non proverà alcun malvagio accidente, e il cuore dell'uomo savio conosce il tempo e il buon modo che si deve tenere. Perché qui dice non affrettarti a partirti dal suo cospetto, ed anche non presentarti a lui con qualche cosa malvagia, perché egli farà quello che gli piacerà. Dice questo, dobbiamo cercare di, ok, entrare nel contesto. Il contesto di questo passo è l'antico regno di Israele, che in questo momento storico ancora non era stato diviso, quindi c'era un solo regno, non c'erano ancora due regni. E nello specifico stiamo sotto Salomone. In quel periodo storico, cari amati, gli uomini andavano a farsi fare giustizia. C'erano i giudici, è vero, ma per le cose importanti si andava, si poteva andare direttamente dal re. E il re faceva giustizia al popolo per le cose più rilevanti, per le cose più importanti. Questa cosa nasce, per esempio, nella Torah, troviamo Mosè che faceva giustizia al popolo. Dalla mattina alla sera, vi ricordate, a un certo punto il suocero di Mosè, Gietro, vedendolo che dalla mattina alla sera faceva questo lavoro, gli dice, caro Mosè, guarda che se tu continui così va a finire, che ti ammalerai, che ti stresserai, potrai entrare in esaurimento, perché il troppo lavoro, il troppo stress, può portare malattie al corpo, ti puoi esaurire e puoi cadere anche in depressione. Mi spiego, umanamente parlando, se vieni rinchiuso in una stanza, questa stanza non ha luce, non ha finestre, ti spengono la luce e ti tengono là sei mesi, tu puoi essere santo quanto vuoi, cristiano quanto vuoi, ti ammalerai, andrai in depressione, ti ammalerai di nervi e quant'altro. Perché? Perché è umano, è normale. Non date retta ai dindirindini che pensano che queste malattie vengono solamente per motivi spirituali, per chi pecca e così via, discorrendo. No, quella è una parte della verità. Ma esiste anche il lato fisico, il lato materiale. Si può ammalare di queste cose proprio per motivi materiali. Per esempio, il cibo, se mangiato male o se ti privi di determinate sostanze o se fai una dieta troppo rigida senza mai sgarrare e così via, discorrendo, io conosco queste cose, ti puoi ammalare anche di nervi e così via, discorrendo. Ok? Quindi questo è molto importante. E quindi Gietro gli dice a Mosè, guarda che se tu continui così ti ammalerai. E Mosè, che era un uomo molto intelligente, capisce che quello che Gietro gli sta dicendo è vero e quindi prende provvedimento e chiama 70 o 72 uomini, ora non ricordo, è tutta a memoria, e li nomina come giudici. E quindi costoro iniziano a concretizzare questo lavoro, no? E praticamente il sinedrio, possiamo dire, che nasce da lì. E Mosè si sarebbe incaricato delle cose più difficili. Quindi quelle che non riescono a risolvere loro, praticamente le avrebbe risolte Mosè. E con l'arco del tempo, quindi il sinedrio operava a Gerusalemme, nel resto della nazione c'erano, diciamo, i giudici locali. Per le grandi cose si andava al sinedrio e poi per altre cose, cose anche molto importanti, si andava dal re direttamente. Un esempio su tutti, vi ricordate Davide, il re Davide. Il re Davide compiva, come tutti i re, come Salomone, come tutti quanti, compiva appunto questa azione di giudice. Poi anche il figlio di Davide che si ribellerà, no? Faceva la stessa cosa mettendosi alla porta, perché appunto i giudici spesso, a parte il re, ma gli altri, si mettevano alla porta e diceva venite da me che io vi farò giustizia, perché là dentro nessuno vi fa giustizia. Lo dico con parole mie. Ricorderete tutti quanti che a un certo punto Davide Davide stava svolgendo questo compito e dopo aver peccato con quella donna sposata il Signore gli manda un profeta. Interessante notare quanto segue e qui vogliamo aprire una piccola parentesi. A un certo punto Davide doveva uscire fuori alla guerra e non vi fu e quindi rimase nel palazzo regale a non ottemperare al proprio dovere. E questo ci insegna che quando è tempo di guerra e noi non usciamo alla guerra, rischiamo molto. Per esempio, noi abbiamo una guerra, vero? Non contro carne, non contro sangue. E se il Signore ti sta chiamando a combattere la guerra nel tuo campo, ognuno di noi ha il suo campo, c'è chi predica, c'è chi evangelizza, c'è la mamma che deve ottemperare alla propria famiglia e combattere la guerra del Signore là dentro, annunciando l'Evangelo. Insomma, ognuno di noi ha una determinata chiamata, ma quando tu ti sottrai, c'è chi deve difendere la dottrina, insomma, quando tu ti lavi le mani e dai le spalle all'Evangelo, alla guerra che Dio ti ha chiamato a combattere, cadrai nella tentazione. Infatti Davide cade nella tentazione perché stava nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato. E stava passeggiando nel suo terrazzo del palazzo e a un certo punto vede questa donna che si stava lavando. Tra Cassanta, per si notare, che questa donna si stava lavando davanti delle finestre, quindi era consapevole che veniva vista. Quindi là nessuno è santo. E insomma, alla fine Davide che cosa fa? Manda a chiamare questa donna, giace con questa donna e questa donna resta incinta. Alla fine c'è tutta la storia. Davide chiama il marito di questa donna che stava alla guerra e lo fa mangiare con lui, beve con lui e poi gli dice vai a casa della tua donna in maniera tale che andando a casa della sua donna sarebbe giaciuto con la sua donna e insomma, nascendo il figlio, nessuno avrebbe sospettato nulla che non era suo. Ma quest'uomo invece fu fedele al re e non andò a casa della moglie perché disse i miei compagni sono al fronte ed io andrei a giacere con la donna per trovare Letizia con la mia donna così non sia e quindi restò a dormire a palazzo per terra. Vedendo Davide che non c'era nulla da fare lo licenziò gli diede una lettera a mano nella lettera c'era scritto insomma, lo dico con parole mie fate fuori quest'uomo e insomma commise non solo adulterio ma alla fine commise omicidio, assassino e poi continuò come se nulla fosse successo interessante notare che tutto questo è nato perché lui non andò a combattere le guerre del Signore quindi attenzione sia se ti metti a combattere le guerre del Signore senza la chiamata fai molta attenzione a mettere il dito dove Dio non ti ha chiamato allo stesso tempo fai altrettanta attenzione a non mettere il dito laddove Dio ti ha chiamato questo è molto importante detto ciò cari amati Davide continuò la sua vita come se nulla fosse è interessante notare che continuava a impartire il giudizio al popolo e guardate un po' guardate un po' quello che vi sto per dire ci è stato insegnato a quelli che hanno la mia età e i nostri avi ci hanno insegnato a me nello specifico i miei genitori me lo hanno insegnato e non solo ma soprattutto loro Alessio quando qualcuno alza la voce oltremodo per giudicare tutto e tutti per puntare sempre il dito per gridare scandalo peccato tutto è peccato fai attenzione a quella persona perché non sempre non possiamo dire il cento per cento ma spesso quella persona nasconde qualche cosa avete presente quelli che io invece chiamogli non alleluia ovvero noi andiamo a chiesa e diciamo alleluia signore gloria il tuo nome sì questo lo facciamo tutti ma ci sono alcuni che non dicono alleluia no loro dicono capito ecco chi è un po' veterano nella fede ha capito tutto ecco quelli lì quelli che quando entri che a un certo punto perdono la propria voce la propria personalità non lo so dico io ma sei bipolare non lo so sei stato un po' stessato da uno spirito e poi magari si girano e guardano all'occhio tutti come di te sto a guardare e stanno a guardare e che vuoi dalla vita mia ecco quelli là quelli che poi quando salgono sul pulpito tutto è peccato tutto l'orecchino è peccato hai messo il rossetto hai fatto la tinta una volta tutte le donne le sorelle tutte che puntavano il dito contro la tinta poi loro si sono fatte anziane e oggi hanno tutte la tinta tutte 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 il che va benissimo io l'ho sempre detto e quelli che tutto è peccato che strillano sempre peccato 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 non te vuoi beve hai bevuto hai bevuto questo hai fatto quest'altro hai tutto qualunque cosa fai è peccato ecco e strillano strillano e poi ti dicono a te ah perché tu non predichi mai la santità e quella che tu chiami santità io adesso evangelisti non l'ho mai predicata perché quella non è santità ecco io predico la santità biblica non quella che tu predichi ok ecco ecco questi qua spesso spesso questa loro grande durezza è un po' come quella del re david che tra un po' vedremo perché poi il tempo passa ed escono fuori i cavilli i peccatucci nascosti oh sì è vero loro determinate cose non le fanno ma il denaro piace a tutti e poi si vengono a sapere determinate cose di denaro prestiti fatti soldi non restituiti e così via discorrendo e come dico sempre io poi alla fine cascano tutti lì o per motivi di soldi o per motivi di scandali sessuali ma guarda un po' proprio quelli che erano duri durissimi che proprio li vedi che l'unico messaggio che hanno è critica giudica condannato tutto è peccato ok torniamo a Davide Davide essendo entrato in un momento di Babilonia di tenebri di confusione spirituale aveva perso la bussola ma lui era giudice aveva appena fatto uccidere un uomo a sangue freddo un uomo giusto aveva appena ingravidato una donna che non era la sua donna lui che poteva avere tutte le donne che voleva oh ma lui era un uomo giusto e quindi si mise nella sua poltrona e si mise a giudicare senza la bussola però utilizzo un linguaggio umano e a un certo punto passò del tempo il Signore non si dimenticò di quello che Davide fece e gli manda un profeta e questo profeta va da Davide per sottoporgli un caso perché lui doveva giudicare e lo dico con parole mie tutto improvvisato gli dice Re Davide c'era un uomo che aveva una pecorella e a un certo punto era l'unica pecorella che lui aveva e gli voleva tanto bene a questa pecorella e un altro uomo che invece aveva molte pecore voleva la pecora di questo uomo morale della favola che favola non vuole essere gli prende la pecora e gliela toglie Davide che si trovava come già descritto in una condizione che aveva completamente perso la bussola si alza si scandalizza comincia ad alzare la voce questo uomo merita la morte merita la morte merita la morte questo uomo deve morire ma non c'è pena di morte per quel tipo di reato perché sei così duro perché per ogni reato c'è una conseguenza diversa per esempio c'è un reato sotto questo cielo che secondo me tutti noi commettiamo tutti 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 quelli che hanno la patente almeno tutti Alessio ma noi cristiani facciamo reati certo come no sì sì tutti li facciamo scandalo eh mo te lo dimostro hai mai parcheggiato la macchina in doppia fila no io no beh non ti credo ebbene parcheggiare la macchina in doppia fila e trasgredire la legge ed è un reato mettila come ti pare no io io beh la parola di Dio dice che non dobbiamo peccare e che trasgredire le leggi di questo mondo è peccato parcheggiare la macchina in doppia fila mettila come vuoi è reato eee su hai peccato eee bene quindi è un reato che tutti commettiamo parcheggiare la macchina in doppia fila ora se io parcheggio la macchina in doppia fila non è che mi danno l'ergastolo per questo mi fanno una contravenzione laddove te la fanno perché delle volte ti perdonano pure ma immaginarti un giudice che tu per parcheggiare la macchina in doppia fila ti dice bene adesso ti fai un ergastolo 40 anni in carcere ecco non si può fare bene davide è quello che ha fatto il danno il male la trasgressione che aveva fatto quest'uomo non meritava la pena capitale perché nell'antico Israele c'era la pena capitale ma quest'uomo non la meritava e davide che aveva perso la bussola perché lui essendo caduto in dei peccati gravissimi adulterio e assassino aveva perso la bussola e quindi era entrato nell'iper legalità l'iper santità quelli che poc'anzi chiamai alleluia quelli là e lui stava così quelli che si scandalizzano che strillano al peccato quelli e lui stava così e quindi aveva perso la bussola e quindi dice quest'uomo deve morire bene gli risponde il profeta perché quell'uomo sei tu e questa non è una pecorella ma la vera pecorella che è stata uccisa è il marito della donna che tu hai ingravidato ops what è già ed è per quello che tu hai fatto che c'è la pena capitale quindi qui se c'è qualcuno che deve morire sei tu ma dice il signore tu non morrai quindi il signore che nella sua parola dice che per quello che ha fatto Davide bisognava morire decide di non farlo morire perché il signore è vero che fa la legge ma lui può anche fare grazie ecco qui che nell'antico Israele nell'antico patto già dalla Torah e non solo troviamo la grazia sì perché Davide non morì non per qualche sacrificio che fece per qualche confessione che fece perché non si confessò anzi continuò a ergersi da giudice non confessò al proprio male semplicemente fu per grazia ovviamente ci fu un castigo che durò fino alla morte di Davide persino quando stava sul letto di morte il castigo proseguì e allora il signore tramite il profeta gli dice tu non morrai però ti toglierò il figlio e poi non mancherà un atto di un castigo che fanno e poi e poi di un castigo di un palco che fanno iniziare il confronto di un castigo e poi di un castigo che si avremmo indietro esano non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.